Dieci notti al museo, questa l'ambiziosa iniziativa presentata questa mattina dall'assessorato alla cultura presso l'aula consigliare del palazzo di città. Dieci notti di apertura gratuita dei musei comunali, divenuti da 2 a 4 dopo il ripristino della ZAC, della ZISA e della Gipsoteca di prossima riapertura in autunno. Noti in cui i musei prenderanno vita, assicura l'assessore Giambrone, con l'obiettivo di stimolare nei cittadini la conoscenza del proprio patrimonio culturale. Dieci notti in cui i musei comunali saranno aperti gratuitamente alla città, ai turisti che potranno così godere del patrimonio che spesso non conosciamo, che ha delle grandi ricchezze che abbiamo accanto casa ma che spesso non conosciamo e che lo potranno fare appunto gratuitamente in un clima un po' particolare, come dire, festoso, di piacevolezza del passare una notte in un posto inusuale, una specie di movida culturale un po' diversa alla movida di cui spesso si parla, con musica, musica da camera, musica jazz, la tradizione popolare siciliana e che ci permetterà di fruire della gamma del museo P3 che sono i due musei comunali, quelli storici e di due spazi nuovi che o non c'erano proprio in città come Zacca, i cantieri culturali della Zisa o che c'erano ma non c'erano più, c'erano prima e non c'erano più come la gipsoteca di Palazzo Zino che riapre per una notte in agosto e poi da ottobre sarà aperta in maniera normale. Dentro i musei artisti importanti della nostra città che sono artisti internazionali ci racconteranno delle storie che hanno a che fare con quei musei. Un'iniziativa a bassissimo impatto economico per le casse comunali nonostante i prestigiosi artisti chiamati a valorizzare le varie serate dal 10 agosto al 12 settembre, tra concerti di musica classica, racconti della tradizione popolare e commenti illustri sui dipinti esposti nei quattro musei, sedi della rassegna, il P3, la galleria d'arte moderna e appunto lo ZAC dei cantieri culturali e la già citata gipsoteca. Dimostriamo che è possibile fare iniziative low cost ai fai di alta fedeltà, di alta qualità, credo che sia questo il senso di questa amministrazione comunale che pensa che sia più importante avere un progetto culturale e poi cercare le risorse che ci sono piuttosto che avere risorse e non avere un progetto culturale. Per questo abbiamo bandito la parola eventi, non troverete nessun atto del comune la parola eventi perché l'evento evoca un giorno e basta. Noi invece pensiamo che la cultura debba essere vita quotidiana, debba essere un continuo.